Torri velocemente in posizione e ripartiamo. Cerca di lavorare sempre sulla frontalità, è fondamentale in questo sport tenere il bagger fritto davanti a noi. Cerca la gamba frontale, non usate la situazione dell'altro, è più male. Vedete i palloni staccati a Arezza che attacca. Se colpisci la palla sotto gli occhiali, non li arralti in lato. Non ho mai attaccato, non ho mai fatto un po' altro. La stai facendo il gatto, non lo so. La stai facendo il gatto, non lo so. La stai facendo il gatto, non lo so. Lasciatemi la palla con due male, non con un'altra. Vai! Grazie. La palla quando partite in attacco non dovete dargliela più una mano. Mi sei notato che con una mano la palla vuota. Fortunatamente a bici vuole c'è il pallo di doppia, ok? Quindi i palloni che videranno al sacco, quando giocate, sono andati. Quindi lui deve vivere questo pallone perché non è reale, non vi ruoterà mai dentro il pallone. Questi palloni saranno possibili. Facciamo un palleggio. La palla di mare per il superiore. Non vuota mai. Quindi avvicinate il pallone con due mani e imparate a dare rotazione col vostro polso. Non perché hai chiaro il pallone di un pallone. Siamo. Ah, non mi fissi. Sono buono. Mi metto. Veloce, veloce. Scorrisci. Non d'acqua. Non lo fanno da fisca. Non d'acqua. Mi potete che cosa hai in porta. Buona. Io e io. Esatto. Non andare indietro. Io sono io. Io non d'acqua. Io non d'acqua. troppo. Tocca. Ok, stop. Fate due gruppi da tre. Uniformatio di scuola di un altro.